Torna il campionato di Serie D dopo la pausa natalizie con la prima giornata del girone di ritorno. Non ci sono derby abruzzesi ma sarà proprio una squadra di casa nostra come il Pineto ad ospitare la capolista matelica che tenterà l'allungo al Mariani Pavone contro la squadra di Amaolo. La formazione è allenata da Tiozio e un rullo compressore. Nelle ultime 14 uscite 12 vittorie e due pareggi. Ma il Pineto, e ne sa qualcosa la Vispesaro, quando è in giornata può mettere in difficoltà anche le primissime della classe con l'obiettivo di allungare la striscia dei risultati utili che va avanti da 13 turni. Ad attendere un favore proprio dal Pineto per accorciare sulla coppia di testa è Lavastese, terza della classe. Colavitto sarà senza Chirillo ma gli aragonesi contano di far valere il fattore campo che in questa stagione a parte una circostanza contro il Matelica ha sempre portato i tre punti. Ci dobbiamo mettere la nostra concentrazione, la nostra voglia di fare, l'umiltà, tutti gli ingredienti che comunque ci hanno contraddistinto nel girone d'andata. Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo di se stessi per cercare di portare i tre punti a casa. Inizia il 2018 e l'Avezzano ha il compito di rialzarsi dopo i due stop con Pineto e Matelica che avevano contraddistinto l'ultima parte del 2017. Giampaolo va a Iesi per provare il blitz che rilancierebbe le quotazioni in ottica playoff dei Biancoverdi. Il tecnico ha qualche problema in mezzo al campo perché mancheranno sia perse che il suo naturale sostituto Kras. Per l'Avezzano un bel problema anche se potrà contare sui recuperi davanti di Pellecchia Cerone e di Curzio, armi fondamentali per provare a scardinare la difesa dei Leoncelli. Siamo carichi insomma per ricominciare a Mello e riattaccare subito la spina dalla partita di Iesi che è fondamentale per il nostro cammino. Noi dobbiamo affrontare partita per partita, ovviamente sappiamo che Iesi come tutte le giornate e le prime di ritorno sarà una partita difficile, però noi andiamo lì per vincere e dobbiamo avere il massimo per raggiungere l'obiettivo. Trasferta in casa del Monticelli per l'Aquila, per il rosso-blu di Battistini un girone di ritorno per confermare quanto di buono mostrato sul terreno di gioco nonostante le grandi difficoltà fuori dal campo. La prossima settimana l'amministratore unico Miani potrebbe tenere una conferenza stampa per cercare di fare chiarezza su una situazione che tuttavia chiara continua a non esserlo affatto. Altri problemi quelli in casa San Nicolò con l'esorio sulla panchina bianca azzurra per Fabio Montani dopo l'esonero di Campanile prima della pausa. Il tecnico che a distanza di otto anni torna a guidare la squadra Terraman avrà il compito di migliorare una classifica sfittica, i nuovi innesti potranno certamente dare una mano, dalla parte opposta però c'è Pino Di Meo che cercherà punti nella rincorsa salvezza con l'Olimpia Agnonese. Il nero Stellati dopo aver trovato la prima vittoria in campionato prima di andare in vacanza avrà un girone intero per tentare di centrare la permanenza in categoria. Peraltro i pratolani hanno appena tesserato il centroavanti bulgaro Kostadin Azzurrov classe 1985 che ha giocato con il CSKA Sofia. La distanza con le avversarie non è impossibile e con i gol di Azzurrov il nero Stellati conta di poter riaprire i giochi. Altra trasferta marchigiana per il Francavilla che dopo aver visto rinviare l'ultimo impegno del 2017 ricomincia da Fabriano la propria corsa. In casa giallorossa non sarà disponibile almeno per questo turno di campionato Domenico Di Cecco che si è liberato dalla San Benedettese e torna in Abruzzo per dare una marcia in più alla formazione di Pierluigi Ervese. Dobbiamo ripartire assolutamente bene, abbiamo la trasferta di Fabriano che è una partita molto delicata, sappiamo che adesso in questo momento il giorno di ritorno è un campionato nuovo perché tutte le squadre hanno cambiato tantissimo, il Fabriano è uno di queste, quindi dobbiamo affrontarla con l'approccio giusto mentale perché è un campo difficile dove noi vogliamo fare assolutamente punti.